Porca troia, brittuna? Vado per brittuna. Ma che cazzo è quello? È qualcuno che grattugia formaggio? Ah no, sta facendo le coccole a un cane? È un gatto. Cosa sta diventando la chat, amici? Mi prego, fermatevi. Da me, da me. Comunque niente, alla fine è la chat che intrattiene lo streamer oggi, grazie ragazzi. Domenico, questo non dovevi farlo. Assertive look sulla faccia di Guido. White, tu come stai? Ball fall? Io non le vedo. Cosa è ball fall? Fatemi ricaricare la chat, così vedo ball fall. Fatemi ball fall. È quella ball fall? Ah, quella. Tu come stai, White? Non mi piace, non mi piace. È quella ball fall. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Aiuto Mi pulsano le vene Sulla faccia Bellissimo Non ce la faccio Mi ha ucciso La mia chat si è Trasformata in facce gialle Giganti Anche White è diventato vittima di questa cosa La scimmia vagone anguria L'avevo già vista Dio mio ragazzi È un calo di pressione Volevo vederla io Ah ok Sei soddisfatto Vida Vida Pogis Va bene Abbastanza soddisfatto Quella forse è la mia preferita di tutti i tempi Volevo vederla 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 Vai maggio Raccontaci invece la tua di storie Volevo vederla 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 Ma guarda te Che rischio Che rischio pazzurdo No Oh oh Mi tocca andare proprio in braccio Non sanguisuga Volevo vederla Volevo vederla Non c'era una che era rimasta là Vabbè sarà grato dopo Volevo vederla Vediamo anche in diretta Biden Blast E Biden con tipo una Una sfera di Dragon Ball in mano Una sfera di Dragon Ball Una sfera di energia di Dragon Ball Scusatemi che altrimenti poi dicono Le sfere del drago sono diverse Marco Ma cosa stai dicendo? Tutti contro Domenico Biden Blast Biden Blast Domenico Biden Blast E' così che esplode Trapani Una fioria di Biden Blast Lore Fino a te Che succede fondendo un fucile laser Ad uno spara Bolle Un fucile laser Ad uno spara bolle Un blazer Ovviamente Un blazer Non l'ho capita Giard Scusami non l'ho capita Faccio la pussy E vado a prendere l'RTSR dopo ragazzi Non ho sbatto Esatto Ah sto giocando ad Enter the Gungeon Chiaro Arriva a 15 Cristo No però dopo il Cavaliere Arriva a 16 Rieccomi i lavori di casa Chiamavano Stai tranquillo Bear Non è successo niente Mi sono solo messo a piangere Da ridere Un paio di volte No che mi sono perso Gli amici qui in chat Hanno iniziato a usare le nuove emote In modo Molesto Ti giuro stavo piangendo Purtroppo non so neanche In modo Gregory Ecco Gregory io non lo vedo Purtroppo Maggio ma quante emote stai aggiungendo Saranno Solo 100 nuove oggi Di tutti sti emoji di merda Mi pazzisco non riesco a vedere le emote Io? Ma come io? Non sei tu ad aggiungerle? Le MFao? Sei tu ad aggiungerle white? Non ci credo 322 22 emote aggiunte oggi Solo con ste emote di merda Ah beh Normale amministrazione Lo sai che siamo una chat di deficienti? Sì sì No certo Quella sicuro Madonna Ah l'Arcon ancora non ce l'ho Dai Mark vogliamo vedere Gregory a schermo E non so se posso Cioè refreshando la chat non funziona sempre Questa è Gregory Molto bello Bello Gregory Vi giuro ragazzi Non sembra più una chat di Twitch No ragazzi Se io faccio vedere una chat del genere a Sara Non smettere più di ridere Cioè nel senso Non riusciamo a finire una run mai più Ogni volta che qualcuno metterà una di queste Emote esplode Cioè È un gruppo Whatsapp di classe dei genitori Esatto Pensavo più alla bacheca Facebook di un sessantenne però Venuti nella pagina di MySpace della chat Mio figlio non ha preso nulla di suo figlio Eh Figaci la lore Galvarn Perché tra tutte le cose che potevi dire Tipo non lo so Quando sono i consigli di classe Una roba del genere Mi hai tirato fuori Mio figlio non ha preso nulla di suo figlio Cioè succede spesso lì da te Che ci si accusi di aver rubato roba Perché ho detto una roba simile su Insta Tempo addietro Ah ok Non puoi sconfiggerli unisciti a loro Cosa? 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 Cosa sto guardando Bear? Cosa? Ma chi l'ha messa questa? Oddio 25 Ho fatto un piccolo errore di calcolo Temo Ma no ok C'era un'anima da usare Ok No oh Eh Si Gregory Io arrivo mezz'ora dopo E non ti accorgi tu delle cose scusa Ma quella non c'è Cioè nessuno l'ha messa prima O se qualcuno l'ha messa proprio non l'ho vista White Cioè nessuno l'ho vista Cioè nessuno l'ho vista Basta No more Vabbè forse possiamo fare tipo così No no Non mi fido No 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 Grazie a tutti Dai Mi ha dato un bel po' di colpi Tutto culo Tutto sport Che hai detto Gal? Siamo tutti un filo confusi Galvi Grazie a tutti 8.080 Precisi Precisi per il più 5 Un early game un po' di merda Per la server posso dire Perché tutte le cose RNG sono dopo le robe noiose Se fosse il contrario No probes Però così è Un po' una merda Siete i golini perché non siete calabresi Va bene Bert Oh no C'è una nuova emote Che è Bert Scusami il mio attacco in salto Oh mio dio Chiaramente grazie Grazie sempre Fa tanto danno l'attacco in corsa White Cioè nel senso Se ci basiamo su L'attacco in corsa Della spadone del Del re tombale Quello era forte no? Mi ricordo che era sbroccatissimo Ma era per la hitbox o era per il danno? Perché ne ho preso 8? Ah shit Non ne avevo abbastanza Un po' entrambi Ok Quanto costa potenziare questa roba? Non 200 400 Quanto costa? 400 Oh mio dio Pipipuf Stipenda Vado a mangiare che se non muoro Ciao domenico Buona pappa Tutto ciò confermo che hanno regalato la droga oggi Sono indignato I golini E i google Golini Secondo wikipedia Pierluigi gollini Detto gigi E i google Golini Dice wikipedia Pierluigi gollini E i google Niente Va bene Io resto qui se hai bisogno di qualcosa Va bene Pierluigi gollini deve essere l'inventore dei golini E non è Pierluigi gollini Con due L E i google Hey Google, golini, ricetta Scusa, non ho capito Hey Google, ricetta per i golini In base al sito web lacucinaitaliana.it Duffate i pagiolini nell'acqua bollente Salate l'acqua, abbassate la fiamma e fateli lessare per almeno 10 minuti O almeno fino a che non sono teneri Scolateli, metteteli in una ciotola o una pirofila a raffreddare Ora sono pronti per le vostre ricette Per saperne di più, cerca il link nell'app Google Home o nell'app dell'assistente Google Credo che non siano i golini giusti Credo che siano fagiolini quelle Niente più RTSR Ti piaceva il tuo RTSR Non ce l'hai più Non ce l'hai più Ma questi non sono i golini Il cane di nome Angioletto quando lo accarezzo Metti l'emote O hai mandato roba a caso a maggio Ma è un emote O sono io scemo Non la vedo se è un emote Sì sì, va bene Ok, non è un emote Che che è un emote, porca troia? Un buratino Ma dude non la vedo Ho pure rifresciato Mangare Vai davvero white Vai davvero white Sì e niente Ciao whiteos Grazie della compagnia Dormi bene Ho preso il cibo Ho preso il cibo Va bene Ho preso la fucilestra Of course C'è Hob C'è Hob che saluta Ho preso il cibo Ho preso il cibo Ma non è che schifo Stare due Ho preso il cibo Ho preso il cibo No Non ti serve a forza 24 Dio mio Sto pensando se mi servono le anime Non dovrebbero Basta che non stai molto scherzando Non dovrebbero essere Non dovrebbero essere Non vedi? No Non vedo un gazzo Ma in realtà non ne vedo un po' Cioè non ho ricaricato la pagina da un pochino Che non capisce quali emot esistono e quali no Gregory Ma cos'è sta arma? È la gamba di tre uomini e una gamba Che man one cup Chiaramente Grazie a tutti Ho preso 5 colpi Ok Non sta bene Qua è lag comunque Beh credo che siano 16 colpi Neanche è malissimo Il titolo non c'è scritto Aspen è una tabella Yep Se vuoi lo scrivo anche nel titolo Dunque forse per giugno Il VIP su sto canale me lo faccio Per i punti O per la No hit Allora Test finale per capire se mi prendete per il culo boys Let's go Sto ricaricando la chat Mandate tutte le emote Che dovrei credere che sono emote Enjoy Ma che cazzo è quel coso? Oddio ma è un cane È un barboncino Buratino 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 non lo vedo Cos'è quello? Cos'è quello Maggio Aiuto Sburatino Con solo lettere non vedo le emote Sei da telefono Ryu o sei da Da pc Da pc Allora se fai punto esclamativo emote Dovrebbe uscirti Un po' di link Maggio adesso ti dice quali di quei link Devi premere Perché non mi ricordo se ne basta uno Per vederle tutte di emote Probabilmente basta 7 tv E Va bene sì Maggio Sì sì giusto Ok però fai punto esclamativo emote Non fare il difficile E 7 tv Già credo basti oramai Ok allora Ok vedi dove c'è scritto FFZ Uguale Allora il link Quello lì di Frankerface Tu lo premi Ti installi la L'estensione Sul Sul browser E poi vedi tutte le moto Devo fare pulizia su telegram nei gruppi Fa troppe robe Togli anche il mio Va bene È stato bello È stato bello Il primo gruppo da andorare è quello di Mark Chiaramente Sì ma me l'aspettavo un pochino Sto per scrivere Immaginavo immaginavo Scontato Scontato Questa emote è la sintesi della mia vita Questa è vecchia Non so se l'aveva già messa da un po' Maggio Su sto canale qui Oppure se ce l'aveva sul suo L'avevo già vista Comunque Comunque il sito procede bene Dai Cosa Cosa hai fatto di nuovo Mi ero dimenticato di metterla a te Ah ok Sono fermato ieri notte Ma procede bene Ok ora bisogna fare Quella sezione di merda Oddio Potrei prenderti le frecce direttamente Andre Tanto che sono qui Non so sezione di merda I tandre Quasi Quasi Bra Metterò anche la sezione Waponoli No 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 Non cambiare le sezioni Nipo Se è possibile Non cambiare le sezioni Quello al massimo Lo decidiamo tutti insieme Non voglio usare ils Non mettere le sezioni Non mettere le sezioni Sto fine settimana Domani Tecnicamente Aggiorno il sito Con tutte le run nuove Che sono state fatte Quindi per chi Stava aspettando Mi dispiace Di averci messo Un bel po' Però arrivano Fatemelo sapere Prima di concluderlo No ma comunque Ipo Cioè Per Come sono sistemate le run Cerca di lasciarlo Invariato Si sta magari Farlo in modo Più Carino Sensato eccetera Però tipo Per le categorie Eccetera eccetera Cerca di lasciarlo Invariato Perché comunque Cioè Quella sarà un dibattito Bello lungo da fare Aggiungi anche la mia Fatta da te Va bene No aspetta Non dovevo dire Stacca 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 Ci sono gatti Ci sono gatti in Elden Ring No eh Vabbè c'è Serosh Gattone Un po' tanto Gattone Sapete ragazzi Sapete ragazzi che L'Iron Golem Non so neanche se Mettermici in RTSR Perché L'RTSR che faccio L'RTSR setup che faccio È talmente preciso Che Non vale la pena A meno che non trovi Un modo per prendere Leggermente più danno Ce l'ho Volendo Però non so Quanto danno extra Prendo quindi Che lì Non so quanto Sia una buona idea Ciao Checco Cagliaririn Comunque è incredibile Che l'Iron Golem Mi ridì HP Cioè Quella è veramente Una bella puttanata Che si fa oggi Oggi abbiamo Già vinto una run Con lo stocco E adesso stiamo Lavorando alla server Che è questa Questo spadone curvo Che vedi qui Un po' inutile Mi sta piacendo attualmente Il sito Quasi quasi Lo rifaccio da capo Eccoci Cominciamo Troppo la testa Questo? No Non questo qui La droppiamo Ad Anor Londo C'è una piccola probabilità Che me lo possa droppare Anche lui Ma è raro Me l'ha fatto Nella scorsa run Ed è stato Un momento magico Convinto di rifarlo Da capo Allora io Serve la testa Quindi sì 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 Per quest'arma Nello specifico Sì perché Mi ridà HP Cioè colpendo Riprendo HP 7 HP a botta Quindi Mi serve veramente Essere a Pochissima vita Per tenermi L'RTSR Livella vita Perché Ah Hai ragione Anche se in percentuale Mi ridà sempre HP E non in percentuale Gli HP che riprendo Quindi Sì avrebbe senso Actually Però che Sbatti È risposto Alla domanda Che ho rifatto Prima che abbia Un effetto Devi Liberlare Troppo Beh i primi Livelli In vita Però Ghi do Ti danno Un bel po' Di HP Potrei arrivare tipo A 15 vita Che adesso sto a 9 15 vita Cosa arrivo A A 1000 Forse a 20 Arriva a 1000 HP Che sarebbero 300 HP Per l'RTSR E poi Eh Eh Sarebbe un bel bustino Eh Vediamo quanto Aumentano Gli HP No Arriva a 800 Non lo so Questa idea Perché l'RTSR Funziona Sulla percentuale Sì esatto L'RTSR Oh mio dio Prendo tanta vita Di danno Ci muoio No facciamo così Vediamo Potrei morirci Ragazzi Se ci muoio Vado a nanna No Non ci muoio Non ci muoio Non ci muoio Ho un'idea Posso tornare indietro O muoio Not bad Not bad Dai rigo Avrebbe avuto più senso Farlo prima Ma Not bad Ora muori E ora muoio Sì Che poi Non era neanche necessario Fare tutto sto casino Più che altro Perché l'Iron Golem Cioè Basteranno tipo Due colpi Per farlo cadere E dove cazzo è andato Questo Ah però C'ho il gigante Da uccidere Oddio Mark Mark Ippo Vai dimmi Con la Stai pini Dei runner Aspetto il pene Di Delia In chat E di Wolf Grazie Grazie Posso fare roba statica Di merda Come sfondo O altro Mettiamo lo sfondo Con il logo Del team intoccabili E l'effetto Trasparenza Sopra Così da non creare Neanche i problemi Con la Lettura E altro Non lo so Non ne ho idea Ippo Se non lo vedo Non ne ho idea Io mi fido Di te E tu che hai voluto Fare questa cosa Adesso sono Cazzi tuoi Perché sono Noiose Dici che è quello Dici che è perché Sono noiose Non lo farebbero Io avevo Un altro pensiero Ma Si vede che sbaglio Regà Non posso colpirlo Cioè 127 Dio mio Quello è troppo Sessista Ah ok Ok Ultimo colpo Che non darò Adesso Vai Vai amico Vai Dai Cadi Dai Cadi Dai Cadi No mi si è finito L'RTSA Dai Tutto cool Tutto sport Esatto Bearbrow Per darti un'idea Fextra Life Wiki Dark Souls 3 Non mi ricordo Che ci siano cose Non statiche Non mi ricordo Non mi ricordi un'idea Non mi ricordi un'idea Non mi ricordi un'idea Non mi ricordo Ho volato come un sacco di patate Mi ha fatto spaccare dalle risate Che si è spiaccicato contro il muro Guardalo lì Il coglione Infatti che non in quel senso Nel senso sfondo nero solido Ah va bene Sì No Non è un problema Non avere lo sfondo nero L'unica cosa è Cercherei di mantenermi Su colori cupi Perché dà molto fastidio Avere sfondi chiari Agli occhi Perché solitamente Il sito degli intoccabili Come è Solitamente siti di gaming E roba così Si usano principalmente La sera La notte Quindi Meglio averli Abbastanza scuri Cioè non puoi farlo Come il sito della scuola Per dire Rosso colorato E bello E spara flash Allora Si teniamo 18.000 Sì Destrezza 24 Not bad Stamina 16 Stamina dovrà alzarsi un po' più di così In realtà A un certo punto Potrei fare questo Va bene dai Quanto dà un livello a vita Prima 6 livelli Mi hanno fatto passare da 552 A 808 Fai 250 diviso 6 Praticamente No fix on Oggi niente stream di Mayu Per guardare Hobb Immagino RTSR solamente per il guardiano Del dipinto qua Nothing else Per guardare Hobb Per guardare Hobb Vedo che stream Tra 2-3 ore Due ore fa Ma sembra proprio Markish Ok 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 RTSR 20% 30 Non lo so Domenico 25 Ma io e Mark Versione donna Ragazzi Mezz'ora sono live Il giorno dopo E ora in live Non rompere il cazzo Ipo Leccami le palle Posso rinunciare per pedofilia? Vai Ipo Non so neanche chi sei Non so neanche che facciai Non so quanto anni Quanti anni hai Ero un Nuovo programma Su real time Ero un pedofilo E non lo sapevo Spero si è fatto Leccare le palle Ero un po' Spero Qu opponents Sono Alib 135 Veni Spero Un bolts Un bolts Ad signs Un bolts No Ti God Gamer Wait Ah, whatever Eh, in porta No, qualcosa è nell'occhio Ah Ah Please Get out Get out now Oh, grazie Stavo soffrendo Non sapevo fosse minorenne Di mostrare meno di ciò Ah, yes The good old Non lo sapevo Mi scusi Non lo sapevo io Non sono più in RTSR La 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 Andiamo quanto male Oh, molto male Tanto male Sembra staggerarsi Abbastanza facile Almeno Vai broschi Non nel muro Non nel muro Non nel muro Non nel muro Grazie Grazie Volessero una ragazza In chat Senza sapere Ma vai Cacca Il cardiopalma Comunque sta run Solo per il fatto Che devo fare Sta puttanata Per l'RTSR Setup Cioè Almeno Io la sento Malissimo Cali da un centimetro Mi fa venire ansia Quello sputo di vita Tantissima Non hai idea Fixa Sicura di sette A botta Si E io sto A dieci Quindi Cinque colpi Sono tipo Cinque colpi Davvero Sbatti il mignolino Explore Sono tipo Cinque colpi Davvero Senza Vabbè Che non è un problema Per Per Smough Se riesco a uccidere Ornstein In cinque colpi Va benissimo Sono trenta hit Con ottocentocinquanta Di vita Allora Con Ottocento Otto Sono Venticinque Tipo Fa già la musica Dinalmente Dinalmente Ciao Seb Non male Eh ma che antipatiasmo Eh no Oppale Proprio bello Ornstein Così ci piace Niente Follow up No eh No Osmo mi fa paura Quanti colpi sono Beh sì Sono tipo Cinque Però Non sei Oh la la Che si Tu No Smough ha detto No Sì Sì vabbè Ma guarda come si sono Organizzati Però Di puttana Niente Smough Ti porti in giro L'amico Of course No con le No con le armi Non faccio Il coglione Lo stocco ci sta Ma Con Smough no Cioè con Smough Ciao Con Il server No Posso provare a dare due colpi Al massimo Per velocizzare un po' Va bene Va bene Scum Scum Non prendo Non prendo neanche L'ascensore Tutto culo Emozionante Sì Racconta Starma Fa un po' Cagare 27 colpi Con 808 Dimmi quello che non so È un bel attacco in salto È un bel attacco in corsa Che è un attacco in salto Non ne vale la pena Secondo me Domenico Quando ti ricapiterà Di livellare vita In una noita No Che Come mi è uscito 808 682 Come mi è uscito 808 Facciamo 682 Quanti colpi sono Domenico Vado a fare il sito Dopo va bene Una ventina Sono tre Una ventina diviso tre Beh vabbè Dovrebbero bastare Per i re Sette colpi Per l'amor di dio 24 E allora Sì dai 15 va bene dai Basta 15 poi basta Calcolando il 25 Di RTSR Oltre Scusami Domenico Stai facendo tutti sti conti Non puoi controllare Lucerne No ti prego No Lucerne Una merda Ups Leggi bene L'amor preferito di Sabacu Cosa La Lucerne Fa cagare Hai ragione Mark Il 25 Bene Grazie Vabbè Sto attacchi in salto Lo prende sicuro Lo scheletro dai Sì 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 Proprio perché È la preferita Del maestro Va bene Maggio È Mark È Marcus No hai ragione Posso controllare Ah ok E la madonna Quanta cattiveria Azz 20% Azz Azz Domenico Molto azz Questa cosa Un po' tanto Azz Un'arma molto buona La Lucerne Ma dai Dude Perchè? L'arma che ti piace di più A me piacciono molto Gli spadoni E gli ultra spadoni La mia arma preferita Di Dark Souls 1 È La spada Possente E L'arma Destrezza Invece Preferita È la spada Della furia Di Quelag Festo salto Che parte Troppo presto Malandrini Madonna come ho girato la camera Non ho mai fatto così Vabbè No biggie No biggie Eh 20% È un po' una merda Frusta allora E lui fa danni specialmente con un buff cristallizzato L'R2 Ma è lento È tanto lento Non ho tante possibilità di usare Ho messo un errore Chi si è dimenticato Di mettersi le cose Martish No dai Non posso essere in midroll Ma dai Ma ho messo a stamina Mille mila Ho 20 Cristo Come faccio ad essere in midroll Con 20 Che antipatica Starma Va Cazzozza Cioè manco Manco con la BKH Ci mettevo così tanto a stamina Mi pare Aiuto Sassarcobaleno 19 colpi Dovrebbe bastare comunque Paduto Quando Ecco, 22 Più dell'alabarda del Cavaliere Nero Madonna la server Però quando va, ci sono due colpi a 360 gradi Poi un moveset cazzuto è leggero con pochi requisiti La lucerna spacca se la sai usare Ma guarda, onestamente Credo che il danno faccia schifo È il motivo principale per cui non sono Un pazzo della lucerna E ha un Credo che abbia lit Lit detection Come le altre alabarde Quindi a seconda di dove colpisci fai più danno Fattano hit con quella La lucerne? No Non ancora E allora non puoi parlare Adesso dice Domenico Prossima arma Eccoci È partito il meme della lucerna Posso buffarla? Eh, va bene Martellone dell'amico del rifugio Una rottura di coglione Lucerne Eccoci Beh, devo andare in giro lo stesso Seb Perché mi servono le anime per utilizzarlo Lucerne, Lucerne, Lucerne Eccoci, eccoci Sta partendo, sta partendo Eccoci Lucerne ha una piccola punta sopra Quindi è in parte stocco Credo che questo ragionamento valga per qualsiasi arma del gioco Tranne tipo le club Non vale per questa No, vabbè Ce l'ha una puntina anche lei Guardala Guardala Ce l'ha È lì La vedi È una micro puntina Quindi posso buffarla? Eh, ti ho detto Va bene E gufa Gwyn La trova è? Vai, perl' è una micro puntina Molto gufata Sono in mid Così non so se sono in mid Scopriremo 15 minuti per votare Speed No, non sono più in mid Pro Mito Mito Ma perché? Dove andiamo, Nito? Andiamo proprio in faccia agli scheletri, sì Oh mio Dio Come mai non ti colpisce Nito e Nito 2 Madonna sta R2 quanto fa cacà Facca, troia Usi lo slumbering Sì, uso lo slumbering e il fogring Grazie mille Figurati È il peggior Nito da Eoni Mancato Don't discourage Liquid courage Think it's fair Sì, si è diretto Sì Zit È world's first? Sì No, ho sbagliato Nito ha Nito ha dei bei piedini Mi abbonerei al suo OnlyFans Dei bei talloni Più che piedi Vedi Fixon? Con Stastratt il cinghiale non si gira Vabbè, questo è un'incognita Sempre e comunque Non mi ha mai tato Neanche facendo quel lavoro lì Però Fa un po' paura Ci sta Addirittura lo scudo ha messo oggi Yep Secondo te Ah, sì Fixon Quella cosa che ti volevo chiedere oggi Ma secondo te Dovrei davvero darle una mano a Mayu Perché Cioè Ho davvero paura di rompere il cazzo Nel senso Non sono una di quelle persone Che vuole Inculcare il backseating Per forza Tipo Mikolas Perché è vero che Miko Quando ci si mette Può essere Un po' Un po' Ce l'ho visto tipo da Kate E da un paio di altre persone Insomma Spinge molto Con le sue idee Poi ci meme anche sopra Non dico di no Però spesso Cioè Se facesse così Nella mia chat Hai detto Che non le dava fastidio E non mi sembra Stufata Ok A posto Cioè Non vorrei che lo dicesse Perché Per essere gentile Maiu Pippo Italy I heard my name Yes Pippo Italy Ragazzi Chat Pippo Italy Dobbiamo convincere Maiu a mettere sul suo canale Pippo Italy Pippo England I'm sorry We don't do that here E' ora di perdere Le nostre anime Boys Non ho alternative Ups Maiu Since you're here I mean You should be going on stream Right But since you're here If you want to watch some Some strat for archives I'm gonna do exactly What you should do Or at least What I Think You should do Like I think this is the most Consistent way Of doing archives The way you do it It's fine But like When you stop In the middle of the corridor After the The Two hollows The archer And the The one with the sword It's extremely rare But the guy Can follow you And get to you In the In the tunnel And kill you That's why I'm here To steal your strats Yeah You shouldn't steal This one though Like this one Is Specifically For weapon only Sonry skillet Sonry skillet Sonry skillet Oh No more arrows No more arrows No more arrows No more arrows çıkar No more arrows Ok Mayu, from here on this is what I think you should do. So you already have both rings in this section, so that's gonna be the same. So what I like to do here is stay on the left in this corridor, then stay on the middle tiles like the one that go towards the archer, as you can see I go all the way to the archer, then you just keep running and you get here to these columns. Like this, even if the guy was to follow you all the way in the tunnel, he's gonna lose aggro. Then at this point you remove the slumbering dragon crest ring, and this is the same thing that you do, but you can do the same with the other guy. So if you shoot right about here, so it doesn't really matter exactly, but the guy just falls down, even though he doesn't die, because he's still on the platform. When you go there, he's gonna go all the way down, because he's gonna fall. so you won't even care. Now, in this tunnel you stay all the way to the right, so that the guy on the right doesn't jump, because that can happen and it's very ugly when it happens. You see, like, he comes out, but he doesn't jump or do some stupid shit, so he just stands there. And then you kill this guy, and you do exactly what you do, like, usually here. Like this is the same. And then, like, for this guy, you can do whatever you want. But what I like to do is just, you know, go ahead and kill him. But if you're not safe doing that, if you don't feel safe, you can just come here and remove this ring, and as soon as he stops shooting, so, like, you can wait for him to stop shooting, it doesn't matter if it's as soon as or just, like, five minutes later, you just need to wait for the guy to stop shooting. At that point, without this ring, you start running, the guy is gonna turn around as soon as you start running, and then you can kill him or backstab him. that's the same. Then this guy with both rings, both rings, you're just, you know, he doesn't even see you, so, who cares. And I think this section is way easier than like this. And also, like, I didn't really enjoy watching you, like, roll through the, um, how do you call it, like, the, the big centipede, um, after, like, the capra demon that you make, like, when you make him go down the, the, the thing, yeah, that's hard. Uh, before Taurus demon, on the way to BOC, uh, there's, like, a, a giant worm, you see, like, the one that, with the, the two pinches, so, what you do is just roll through him, while on the right, you can just stay on the, um, on the side. And most of the times, he doesn't even aggro. So, and even if he does aggro, you don't have to roll anything, because the, you're too far away and he can't hit you, so that's one thing I would, like, change. Everything else is, in the run is, like, pretty much fine. Like, even early game, I said you can use Thief, I will most likely forget everything. Yeah, it makes sense. Allora, quanto abbiamo di questo? 140, quindi 14 utilizzi! Ma che cazzo ci faccio con 14 utilizzi? La faccio al più 10. But, you know, that's fine, Mayu. You're gonna get it either way, like, with, with these, these tips, I think the run would be way more consistent, but, you know, like, if you can manage to do everything as you are doing it, it's definitely gonna be more entertaining for me to watch, of course, because, like, there's gonna be a lot of what the fuck situations, but, you know, if you don't want to, like, have heart problems at your age, I think you should start doing some, some other struts. Oh, fa- oh, oh my god, ok. Notte Checco, grazie di essere passato, un bacione. I already have heart problems, do you see me panic all the time, yeah, yeah, yeah. Like, even in PB runs, you're so, like, anxious. Mark, ti prego, 3 perry? No, Domenico, non saranno mai 3 perry, ma neanche tra un milione di anni. Mi piacerebbe, sarebbe bello, e se lo sono, guarda, sono felicissimo. Davvero. Possibile, però, possibile, sì, dai, sì, dai, no, sì, è possibile, sì, sì. Ci stanno 3 perry, ci stanno. Ci stanno 3 perry, sì. C'è che è normale dopo i tre perry? Sì, sì, potrai, è quello che stavo pensando. Sì. 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 Sera igreggio Signor Bord Sì Esatto Sono proprio io Il signor Bord Io come cazzo faccio a prendere Ah Guarda la server che brava Mi dà anche la possibilità di prenderlo Quando fa l'RNG brutto Meraviglia I'm sorry Mayu If I can show you like The correct way of doing Seath one cycle But like with weapon only It's very rare That you have enough damage To do one cycle Tutto culo ragazzi Tutto culo Oh god Io si E' igreggio E' igreggio si or Bord Allora sono cinque Va bene grazie Sono cinque Dieci Troppe Scusami eh Cinque Dieci Ah no Ventinove Oh no Devo prendere la La pietruzza Per voi Ecco Right Una resina per Gwyn Non prende un cazzo di danni da fulmine Domenico Non ne vale veramente la pena Like Mayu Like I want to show you this So like I have One Humanity From Archives Then I have Four Other humanities For twin humanities So that's five Plus five Plus twenty three How the hell How Do you have Like Precise A precise amount Of humanities there How And you also gather Five other humanities In Petit Londo Like New Londo Sorry I follow the guide Yeah but It doesn't make any sense Because like The humanities I have right here It's before B.O.C Of course Before Sif That gives you Humanities How There's literally No way Mayu There's no way You have so little Yeah don't look at My chat By the way Like at this point I have like Thirty three Humanities Before B.O.C And I didn't even Do Sif Che è sta Emote Si divertono Gli lascio divertire Fix Oggi mi sono Sputtanato Da ridere Prima Quando Hanno iniziato A usare Tutte Emote Tutte Emote Del genere È diventato Un puttanaio La mia chat Allora Validiamo Questa run Perché ci sono Le freccine Che scopano Invalidate Le freccine Le treccine Le treccine Che scopano Ma poi tra l'altro C'è Fixon Io droppo Pure Un'umanità Al corvo Per l'anello Del sacrificio Vabbè O Suddia di giorno Vabbè Lo so Dovrei averne 34 A questo punto Quindi C'è Se non droppassi Quella Ne avrei Già abbastanza Anche senza Uccidere Patches Lei ne deve andare A prendere 5 extra Come Il ninja Il ninja lo uccide Ha caricato un save Per caso Ha caricato un save L'altro giorno Prende le anime Del ninja Quando lo butta giù Oltre all'anello Per forza Le deve prendere per forza Se vuole un anello O se è droppato Col cheat engine Ma è da playstation Non se non può Neanche essere Vabbè I don't get it Non capisco Non capisco Più ci penso Più non capisco Ora la versione cinese Dice che è quello Ber Tu quanti Qual'era l'opzione 2 2 2 2 perry 4 perry E lì sta facendo Bloodborne oid Lo so Con la Segalancia Sono sporcato Gli occhiali By the way Ok Grazie 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 Amici? Ci sono? Amici? Ci sono? Ditemi che è la stessa stream di prima e che non mi ha diviso il VOD Vi prego ditemi che non mi ha diviso il VOD Stessa Ok E' letteralmente crashato il PC senza motivo Schermo blu Ragazzi che dite la run è ancora ok? E' diversa? E' divisa? Perché sei andato offline? Eh per forza Ho iniziato a registrare appena potevo Ho fatto tipo velocissimo però non lo so Posso andare a chiedere sul Team Hitless Al massimo la finisco e poi la rifacciamo Eh per la informazione ma pensare che doggone per chiederemo no Maledivisa Super Alla prossima Per limone sta registrando d'obs? no no bet sull'invalidata? eh potremmo farlo bet rimane in vita indipendentemente dalla stream no e l'era sain rimane in vita anche per due anni finchè non viene chiuso true 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 that no 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 ragazzi L'unica volta che non mi sono dimenticato Cioè non mi sono ricordato di Registrare da Da OBS sull'altro PC Incredibile Ok Ok Do it Mark Domenico Dicono niente Dai rega non c'ho proprio sbatti di farla Staran fa cacare l'early game Se rispondono ti avviso Grazie Se maggio falsa la bet viene un moddato giusto No non credo verrebbe un moddato però ne rifarei un'altra Non lo so che cosa potrei fare in effetti Dai dai non falsare la bet smid E' il bravo No non dire god domenico perché dovrei dargli ragione Non dirlo di che... No non è il bravo Sì 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 Perché doveva crashare il pc Ragazzi tra l'altro è crashato Cioè ma senza un cazzo di motivo Non c'era veramente motivo Cioè non è che è morta la luce o roba del genere È solo crashato Sicuro Mark Sicuro che saranno Sicuro ci saranno problemi Non direi di no Vi giuro una volta non vi capisco ragazzi Non so come fate tutto sto tempo A fare i meme A fare i meme di 6 ore Dio mio sta curva Non solo sto ancora ridendo Non so come fate andrò Non so come fate andrò Grazie a tutti Ma come 39? Sono 150.000 punti di bet E allora niente Fai il bravo dai maggi Lo banno e la chiudo io la bet Ma no dai È stronzo ma non così tanto Allora server Più diesi Done Stanno scrivendo Mark Tonso Ho paura di tonso Forse non dovrei ma a volte ho paura di tonso 8.14 If you start stream back up And continue where you left It should be fine I think No un osso no? Ah derivo Comune dei non morti Siffettino time boys Dai sto Sono contento che Sono contento che non sia invalidata Forse Teoricamente Quello Should be fine Non mi mette troppa tranquillità Però No devo comprare un HDD per questo computer ragazzi Devo Cioè è obbligatorio proprio Così posso buttarci tutte le registrazioni della run Che cazzo mi pare Perché adesso Manca veramente poco A riempire Un Tera di Di SSD Con Video di Dark Souls Quindi Cioè Un po' eccessivo Un po' eccessivo Solo per la validità Una volta a settimana Beh vabbè Finendo 6 run a settimana Non è difficile Maggio credo che abbia avuto un po' la stessa situazione Quando ne finiva tante insieme Non stavo ascoltando Guardalo come si pavoneggia Niente uno non può più avere un'opinione Parlare della statistica Che è pavoneggiamento Io non lo so Cioè Adesso l'arma forse andrebbe messa Così a occhi Non vogliamo opinioni in questo stream Non vogliamo opinioni in questo stream Un po' to match Un po' to match Un po' esagerato Un po' to match 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 Ci diamo quel piccolo Quel piccolo extra edge Di danni possibile I quattro re Mettendo 17 a vita Forse preferisco La stamina sapete Metti un cooldown al bot Tutto culo Ho fatto apposta metterlo a zero Il cooldown Mi sa temere per i per Sei masochista allora? Perché? La trovo una cosa divertente dai No? Non è divertente? Forse no Forse fa ridere solo me E con questo? È il mio canale Adesso faccio un'operazione chirurgica Per togliermi Quel singolo peletto Che mi sta facendo passare L'inferno in terra Ma chi è questo storpio? Sono io ragazzi Sono io Ma è senza gli occhiali Poverino Guardate che faccia Che ha Quegli occhietti piccini Eccomi chat Sono tornato Marco non te lo spieghi Perché la prima volta Che ti vedo senza occhiali Com'è? 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 C'è la mamma zoccola Marco è senza occhiali Oddio C'è una macchia C'è una macchia Oddio c'è un'altra macchia Più grossa adesso Hit dai fantasmi Mentre pulisco gli occhiali Sarebbe veramente Il L'hit più bassa Presa nella storia Ma porco cazzo Ma cosa c'è successo? Sono già sborrato un cammello Ma che succede? Bene A posto Ok Siamo Ho visto qualcuno che scriveva Poi ha ritirato la mano Chi è? Chi è? Chi è? Chi è il cane? Cut No No mi dispiace È una vita che ti faccio sempre Nello stesso modo Tu adesso devi proprio Prenderla in faccia Sta bomba Ma proprio E stare zitto Just count to ten Just count to ten All too well Che coglioni Già sette mesi Sono stufa Sara Bentornata tra i capitani Goditi lo stemma Le motte e la visione Senza pubblicità Che coglioni Già sette mesi Sono stufa Va bene Grazie maggio Sara Sei da telefono? Sì è No perché Sono state aggiunte Un po' di emot Che probabilmente Ti ucciderebbero Non credo che Smetteresti di respirare Per qualche minuto Forse qualche ora Ma è morto Ma che gentile 1 to 10 Va bene Inward che si blocca Nell'angolo Ma adoro La mia vita Sto visto Stronzo Troia Sono ubriaca Vado ciao Ciao Sara Buon ubriacaggio Non salire su macchine Disconosciuti E Non guidare Ma che cazzo sei Sua madre Ma ti svegli Time out Di Due minutini A guidò Grazie Ritorneremo Ritornetemo No dai Niente time out A guidò Niente time out 1 2 3 Tua mamma Zoccola 4 5 6 Tua sorella Parabola 1 2 3 4 5 6 7 Eccoci qua 2 3 4 5 6 7 Tuo padre Storto Giusto That thing Domenico Buratina Va bene E anche stasera Non capisco un cazzo Di quello che scrive E si gode Marameo Ma cos'è quello Quella è palesemente La L'emote Marameo Sì però Cagami Così posso andare A dormire Però vado I'm sleepy Ah ma sei Ah no Ok sei a casa Non avevo capito Buona Nanna Enjoy Your sleep Love you E Suka Vai via Sara E' molto Divertente Ah Ok Sapete che L'arco Non mi serve Più Già Da adesso Ok Dai Vamos Ma Che c'è Che c'è Che ho detto Cosa succede Sara Mi piacciono gli effetti Sonori Dell'emo Ecco Adesso Per colpa Di domenico Ragazzi Ci metteremo Sei anni e mezzo Fare l'artistar setup Colpa sua Che mi ha detto Di potenziare vita Burattino Domenico Ah visto Che non si merita La bet Eccoci Eccoci Mi caco sotto Ragazzi A fare sta cosa Ogni volta Che bell'arma E' meravigliosa Ok Andiamo Ops Ti prego No No Non con la server Non con la server Non con la server Ma perché con la server What Dude Hello What No Ma che RNG Di merda Ma è già spawnato L'altro Ma guarda Che cosa mi tocca fare No Dai Stop No I quattro re. Not the first one Mayu, not the first one in the boss fight, that's not what I said. You misunderstood, ti prego, no, actual four kings. I meant the first one when they spawn in, aside from the first one in the... in the fight. So, like, if I was close to this one when it spawned in, and I kept running towards him, I would have stopped it. So quattro davvero, hai visto? Pazzesco. Tutto culo. GG, thank you. Thank you. Oh, god. Stamina 24 va bene. Forza. Forza. Forza per Domenico, via, andiamo. Tanto vale. Tutto grazie a Domenico. Quanto abbiamo a forza? 27. Fantastico. Mi serve davvero altra stamina per Gwyn? No, era per la running section prima, in realtà. Così non mi devo preoccupare di quando recuperarla, ma sicuramente tre non mi fanno quella gran differenza. Ehm... let's go. Mark, non ti permettere che sono qui... che sono qui i livelli in forza. Qual è il problema? Un po' rotto il cazzo. 20... 30 seconds to... mamma. Actually, this is not bad. 20 seconds to... Nuovo gruppo. Devono essere quattro perry. Eh, vedremo. Per i volanti ne abbiamo. Si spera di no. Ah! My hair sucks. Puoi davvero far vincere Domenico? Io non voglio far vincere nessuno. Io voglio fare meno perry possibili. Va bene. Vanno in quattro. Ne faccio quattro solo per far perdere Domenico, quindi. Non voglio far vincere Domenico, quindi. Non è che adesso voglio far vincere Domenico. non voglio far vincere Domenico. Sofia! Grazie del raidone. Siamo a fine run. Ti ho dato il consiglio della vita? Sì, dalla mia parte, ma guarda te. Buongiorno. Lui? Stato troppo a sinistra? Probably, maybe, definitely. Abbiamo un cavaliere alla riscossa, amici. . ConOLA .. Ansk iscriviti per papaya digital. Quasi Motto e meno Ah no Giuro che motto e meno Arrivo eh Motto e meno Cavaliere Michael Jackson Guardalo guardalo Appena ritorna al limite di aggro Riparte Vai Vai bro Vai sei tutti noi Il numero uno Actually worried In questa città Nessuno si diverte Mai si divertirà Aaaaaah 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 Neanche volendo Nooo Aaaaa 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 Ah 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 tre ok abbiamo fatto il meme ma sono tre sono tre well done thank you che meme due ore e venti vabbè dai nella media solite cose server fatta gran bel meme ok invalida perché splittata no 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 dai no no dai basta basta stavo piangendo ragazzi il colore del sasso abbiamo giallo arancione rosso fucsia oppure azzurro verde blu oppure arcobaleno che ha una probabilità più bassa di uscire rispetto agli altri forza green rosso blu arcobaleno sempre verde fucsia azzurro blu verde pronti pronti e il colore è blu questo è blu ragazzi non è azzurro ma è blu chi ha detto blu fixon gg a fixon tu sei un malato gg a fixon e anche aval grandi bravissimi ragazzi ho vinto fortissimi grandi amici allora ragazzi dopo questa memata del cazzo di run che speriamo sia valida dovrebbe dovrebbe io la invio subito e poi vediamo niente ci vediamo domani ragazzi io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me e un saluto e un vaffanculo a youtube un vaffanculo molto grande quest'oggi perché onestamente sono dei qual è l'insulto peggiore che posso dire vengono tutti da trappani ciao amici ciao addio buonanotte e siate felici